we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi sebbene ieri tutti ci aspettassimo la patch 9.20 purtroppo c'è stato un leggero ritardo si preannuncia l'arrivo nella giornata di oggi o alla peggio giovedì ragazzi un grande grandissimo hype anche da parte mia per questa patch che come già vi ho annunciato nei video precedenti porterà una bella ventata di novità sul nostro battle royal però ci avevo preso ieri è diventato disponibile per tutti lo starter pack quindi ragazzi per 4 euro e 99 vi porterete via una skin esclusiva un backpack e 600 vi bucks vale davvero la pena secondo me di prenderlo nel video di oggi però ragazzi mamma mia il bundle xbox è pronto alla vendita ragazzi per chi ancora non lo sapesse c'è un bundle che dal 7 giugno online verrà venduto ma è già disponibile vi faccio vedere delle foto direttamente dall'oriente ragazzi anche però scie esclusive per i possessori di ps4 sì perché nei file di gioco ragazzi sono state ritrovate due scie che non sono presenti in game e che sono associate solo ai possessori della console di casa microsoft cercheremo di capirci qualcosa di più e poi ragazzi il ritorno non voglio spoilerarvi niente ma sta per tornare un'arma che forse alcuni non hanno mai visto ma per chi la conosce tanta tanta roba voglio prima comunque ringraziare tutti quelli che ogni giorno mi supportano con il codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per crederci ogni giorno per iscrivervi al canale e soprattutto tin 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 attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima è della della devo fare raga la domandina ve la devo fare è nostalgica questa e quindi mi raccomando preparate il fazzolettino ragazzi ma ci tengo tantissimo ai vostri commenti qua sotto e la domandina di oggi ma tu dove vorresti atterrare mamma mia ragazzi la mappa della prima season per chi potessi dov'è che atterreresti ragazzi io io voglio tornare a putrido pantano voglio il putrido proprio easy putrido mi lutto gli alberi vado alle prigioni e sono già pronto per la parte finale della partita tanta roba ditemi ragazzi dove invece voi vorreste atterrare proprio qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a vedere ragazzi un'immagine molto interessante della skin in game e non solo un'immagine come vedete è un vertex la skin del bundle xbox one s viola guardate qua ragazzi guardate un pochettino se riesco a farvelo vedere l'abbiamo per l'abbiamo perduto lo abbiamo perduto un secondo a perché qua eccolo qua ragazzi eccolo qua il vertex con è partita un attimo lì il vertex ragazzi con il nuovo nuovissimo deltaplano lo avete visto per pochi secondi vi ricordo come avevo già anticipato che la il bundle xbox prevede oltre alla skin e al deltaplano anche 2000 vbucks quindi tanta tanta roba ragazzi e soprattutto la anche un mese di live gold eccola qua ragazzi la nuova xbox in versione purple quindi davvero molto molto bella e in edizione super limitata il prezzo sarà di 299 euro ok da un terabyte la console quindi è la one s da un terabyte ma ragazzi vi avevo detto che vi avrei fatto vedere un'immagine dall'oriente proat siamo a dubai ed eccola già sugli scaffali con ben tre giorni di anticipo rispetto alla vendita online quindi ragazzi se per caso foste a dubai o aveste degli amici a dubai vi liacca suina dategli dei soldi e fatevela spedire perché eccola qua davvero meravigliosa questa nuova xbox edizione limitata di fortnite ma andiamo avanti con un'altra curiosità molto molto interessante questa faccia sveglissima ragazzi sembra che sembra che ha fatto la nottata se l'ha fatto l'after è il signor tsm mit lo conoscete tutti sicuramente una grande curiosità per chi non lo sapesse oltre a ninja che ha creato tutto un brand di merchandising intorno al suo nome e così come hanno fatto anche altri utenti invece tsm mit mi si butta sul burrito ragazzi ha fatto una collaborazione con chipotle che è un'azienda ovviamente delle sue parti che fornisce street food chiamiamolo così cibo molto veloce fast food però al burrito ragazzi e abbiamo il burrito di tsm mit ragazzi composto da due porzioni di pollo un po di riso bianco una crema di formaggio fagioli neri formaggio ancora e crema di cipolla perché volesse saperlo ragazzi una nuova novità per questo giocatore che sicuramente continua a riscuotere ogni giorno un successo incredibile a livello mondiale ma andiamo avanti ragazzi invece eccola qua la nostra oggi parliamo di console così ragazzi la nostra tanto amata playstation 4 ragazzi come vi anticipavo all'inizio del video di oggi ci sono delle scie esclusive per i possessori di ps4 non sappiamo ancora quando e in che modo verranno regalate oppure date semplicemente a voi giocatori di playstation ma abbiamo le fotografie ragazzi la prima è questa proat e si chiama tipo cobalt trail una roba del genere nel senso io ricordo che all'inizio della season vi avevo anche spoilerizzato oltre alla scia mi sembra un deltaplano sempre cobalto il che mi fa pensare che probabilmente ci sarà una un set esclusivo per i possessori di playstation probabilmente di ps plus un po come c'è stato per il tizio quello di colore con con la cosa sugli occhi bianco e blu insomma le skin quelle per i possessori oltre a questa skin che è davvero molto molto carina ragazzi c'è anche questa e anche qua non riusciamo a capire perché sebbene la prima skin che vi ho fatto la prima scia che vi ho fatto vedere sappiamo essere esclusiva per i possessori di playstation questa invece potrebbe o essere esclusiva sempre per i giocatori di ps4 oppure semplicemente una skin shoppabile una scia shoppabile nel negozio ragazzi per il momento non ho altre informazioni ma perché non farvele vedere visto che le prime immagini sono assolutamente interessanti ma andiamo avanti ragazzi ed eccola qua come vi dicevo forse non tutti l'hanno vista perché è stata introdotta per la prima volta nella patch 1.6 ed è stata mandata il magazzino nella patch 5.4 quindi ragazzi parliamo davvero di tanto tantissimo tempo fa questa è la revolver una pistola che ha fatto un grandissimo successo nelle prime season di fortnite addirittura ricordo ninja che la utilizzava al posto del cecchino ragazzi oppure faceva shotgun revolver tanta tanta roba il grande ritorno è proprio lei ragazzi e perché siamo quasi certi che potremmo rivederla nel battle royale in questi giorni ragazzi beh perché qualcuno si è accorto che nei file di gioco sono stati aggiornate sono state aggiornate le statistiche relative al revolver ragazzi come vedete il fire rate è stato aumentato a 1.2 dal vecchio 0.9 e il tempo di ricarica è stato diminuito a due secondi rispetto ai 2,2 secondi a cui eravamo abituati quando la utilizzavamo quindi la domanda è molto semplice la domanda la l'ipotesi è che questa revolver posta seriamente fare il suo ritorno su fortnite e la domanda è che cosa toglieranno per tenere questa per rimettere il revolver a parer mio qualsiasi cosa tolgano va benissimo perché ragazzi vi posso garantire che giocare con revolver era davvero super super divertente per chi ha provato la sei colpi diciamo che ci si avvicinava davvero moltissimo beh ragazzi io per oggi vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in live più tardi alle 13 e 30 ciao